tempo instabile con nuovo peggioramento e precipitazioni giovedì 16 maggio molto nuvoloso con precipitazioni diffuse anche consistenti e a carattere di rovescio vento sostenuto da sud est minima in lieve aumento massima in calo mare da molto mosso ad agitato venerdì 17 maggio cielo nuvoloso e precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale fenomeni via via in esaurimento valori pressoché invariati compresi fra i 17 e 18 gradi sabato 18 maggio residue condizioni di instabilità con possibili piogge sparse minime in diminuzione massime in salita domenica 19 maggio temporali e schiarite minime in ripresa massime in lieve flessione la marea di giovedì 16 maggio è normale la massima all'1 e 20 65 centimetri la minima alle 8 e 55 20 centimetri